Musica 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 Un consiglio che contiene tante casse, alcune le, alcune gialle, alcune rosse, dovendo scegliere o studiare le mie mosse, sono l'impasse. Io sto accorgendo del soggetto dentro casa Con la mia casa ancora con i castelloni Nella forrea ripagliato la mia stessa E la forrea ripagliato la mia stessa E la mia stessa che sei 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.